Quindi c'è da gasarsi un pochino. Oggi è una bellissima giornata e io mi amo e mi approvo. Nel mio mondo va tutto bene, tutto è perfetto, tutto è rotondo e non c'è alcuna ombra di dubbio che si realizzeranno i miei desideri per la mia felicità e la facilità delle persone che mi circondano. Così ho detto. Questa è una delle canzoncine che faccio ogni mattina e quindi dobbiamo creare il valore su qualche cosa. O vogliamo vivere all'avventura, che è molto bello. Ci sono emozioni meravigliose sull'attimo, l'attimo fuggente. Però è anche vero che la vita va avanti e il tempo ne abbiamo sempre di meno. Per quelle persone curiose, quelle persone che vogliono migliorare, quelle persone che vedono una visione più ampia del parrucchiere. proprio perché dobbiamo imparare a migliorare certi servizi che abbiamo nel salone di parrucchieria. Ma questo per raggiungerlo ci vuole disciplina, ci vuole rigore, ci vuole formazione, ci vuole informazione, ci vuole allenamento. Quindi nel gruppo privato dove solo professionisti possono accedere, c'è una bellissima discussione delle tecniche, delle esperienze, le esperienze fatte proprio da voi dentro il vostro salone. E quindi tutto questo ci formenta, ci aiuta a mettere questo nuovo aggettivo, extension, dentro tanti altri aggettivi che noi usiamo continuamente e farlo diventare di routine per generare valore e servizi. Solo in questa maniera possiamo incrementare bene il nostro business. Io vi aspetto in via di Tor Bergata 39 sia per una consulenza in extension sia anche per il corso che si terrà il 12 settembre dalle 9 alle 5. Sarà un'esperienza veramente meravigliosa per quelle persone che sono a digiuno di informazioni. Quindi iscrivetevi, telefonatemi, ecco il mio numero e nient'altro. Ciao, ci vediamo.